Le previsioni meteo per domenica 1 a settembre di Globus Television, domenica. Giornata ancora contrassegnata dal bel tempo, il cielo a parte una maggior nuvolosità sui settori sudorientali, si presenterà prevalentemente sereno. Temperature massime fino a 35 gradi, valori notturni stazionari. Mari, Marionio poco mosso, Martirreno poco mosso, stretto di Sicilia poco mosso.